Le condizioni di pericolosità e precarietà di un edificio in via Filzi a Cremona, in prossimità del sottopasso ciclopedonale, non fanno che peggiorare e preoccupano gli abitanti. Lo avevamo segnalato nel nostro telegiornale a febbraio, perché le tegole sono sempre più prospicenti e a rischio di caduta. Da poco le transenne che delimitano l'area sono state spostate sempre più in mezzo alla carreggiata, creando disagio ai residenti. La questione si trascina ormai da 30 anni, da quello che ho saputo, e purtroppo non c'è molto da fare. È cominciata praticamente inizialmente con la caduta di qualche pezzo di persiana, so che sono caduti anche dei comignoli, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, ma non c'è stato nulla da fare. L'unica cosa che hanno potuto fare è transennare così. La transenna prima era più vicina alla casa, era solo sul marciapiede. Adesso vedo che si è comunque allargata. È a rischio anche la vita di alcuni felini che vivono in una piccola colonia posta proprio sotto il palazzo, nell'area transennata. L'incuria, il degrado e anche il traffico elevato della zona vengono spesso segnalate dai residenti che non ricevono risposte concrete dall'amministrazione. Per esempio, da venerdì in via San Francesco d'Assisi giacciono materassi abbandonati davanti all'asilo. Non è la prima volta. La prima volta è vero, qualcuno si è abituato, col buio della notte si libera. Inconcepibile, mette a disagio, la gente guarda e allibisce. Però è così, bisogna intervenire, io non riesco a immaginare come. I cartelli 30 all'ora non si vedono, personalmente ho chiesto di renderli più visibili. Non capisco una cosa semplice, ma che non viene fatta. E ha avuto risposte dall'amministrazione comunale? Sì, a chiacchiere, operative, niente. Il comune che non fa niente, è lì il problema. Siamo sempre da quel sempre, che fanno sempre quello che vanno a loro. Tutte cose sbagliate le fanno sempre.